Troviamo qui con Felicia, la sponsor ufficiale, una degli sponsor ufficiali di questa manifestazione Coppa del Mediterraneo, Bomba d'Amore. Ma vuoi spiegare un po' questa Bomba d'Amore? Buonasera a te Gennaro, un piacere averti qui. Grazie. Come ascoltavo prima dicevi che tu non avevi fans. No, me l'ho chiedevo. Io sono una tua fans. Ma quando veniamo non parla, hai trovato? Ecco la Bomba d'Amore. Bomba d'Amore è un vino spumantizzato, sono bolliscine naturali con metodo Charmat. Si avvicinano un po' a quello che è l'abbinamento pizza-vino, perché non c'è cultura di abbinare il vino alla pizza. Quindi pensiamo pizza-birra, pizza-coca-cola, mentre pizza-vino no. E al che io ho voluto proprio creare questo prodotto per avvicinarmi, dato che io amo i pizzaioli e la pizza in generale, e quindi ho voluto fare una bevanda che si avvicinasse. Ed ecco qua che nasce un vino spumantizzato, non è un brusicco, sono bollicine naturali. Bollicine naturali. Quindi si sposano bene con la pizza, chiaramente. Un vino spumeggiante, un vino, e tu l'hai creato, con la tua bellezza e la tua professionalità. Grazie, grazie mille. Anche oggi la giuria ha apprezzato tantissimo Bomba d'Amore. L'hai già apprezzato pure, ma non sapevo che fosse tu. Che fosse il mio, ah ecco. Se lo sapevi l'avresti apprezzato di più? Beh sicuramente sì, ma adesso già nel ricordo di quello che ho bevuto l'ho apprezzo di più. Grazie, grazie mille. Stiamo cercando di avvicinare veramente quello che è il mondo giovanile alla cultura del buon bere. Brava, brava. Questo è, buon cibo e buon bere. E buon bere. Grazie. Grazie. E grazie per essere fans. Ciao. Ah e diciamo, dove sarà la tua cantina? A Bosco Reale, alle pendici del Vesuvio. Te vengono a trovare. Ok, d'aspetto. Te vengono a trovare, andrò qua.